Penso anche a Stefano Sandor, che ieri è stato proclamato beato a Budapest. Era un salesiano laico, esemplare nel servizio ai giovani, nell'oratorio e nell'istruzione professionale. Quando il regime comunista chiusse tutte le opere cattoliche, affrontò le persecuzioni con coraggio e fu ucciso a 39 anni. Ci uniamo al rendimento di grazie della famiglia salesiana e della Chiesa ungherese.